Pio! 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 Che è successo? Superiore. Guarda un po'. Che c'è? Che c'è? Qualcuno ha rubato gli anni dalla Madonna? No. Oh, mamma mia. Ora io mi chiedo. Ma chi può aver fatto una cosa del genere? Sei stato tu? No. Stavolta no. Stavolta no. Allora dimmi, secondo te, chi può essere stato? Ma io che cosa ne so, eh? Qualche poveraccio. Sarà andato dalla Madonna e gli ha detto a te che ti serve tutto quest'oro. Dammela a me. Dammela a me. Che ci compri il pane per i figli. E la Madonna gliel'ha dato. Beh, quindi secondo te è andato proprio così. Se conosco bene la Madonna, sì, è andato proprio così. Va, 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 va. Comunque non ci si mette a strellare sull'altare maggiore, va bene? Vattene, che è meglio! Ma è duro e che un braccialetto, po'. C'era pure una collana sempre questa. Era falso. Vattene, va, va. Ciao, pazienza.